La gente se la prende con l'evasione fiscale, oppure con l'illusione fiscale, no? Ci dicono, ah, ma Amazon in Italia paga soltanto il 3% di tasse, perché ovviamente se ne una multinazionale può, attraverso tutta la folla e legislazione che esiste nel mondo, avere uno studio commercialista che gli dice, guarda, tu apri la produzione là, il commercio là, la cosa là, fai la triangolazione e lì, e all'aprile paghi il 3%. Bene. Io non voglio che una persona libera, un liberale coerente, non vuole che Amazon paghi il 70% di tasse, vuole che anche l'artigiano di Lugo di Romagna paghi il 3% di tasse.